Eccole, dirette verso la sfilata, a piedi. In mezzo alla nieve, va che bello. Trucco e parrucco fatto da sola, perché mi piace. Mi diverte, tutto guvi, base, con l'illuminante, col primer. E poi ho fatto un occhio un po' scuro, perché oggi c'è la sfilata di Armani sulla neve. Una emozione pazzesca. Non vedo l'ora, e allora mi sono preparata. You like to look? Dopo mi copro, però è.